Ma mica è caduto uno dieci anni fa, che è successo l'anno scorso? Senta, io sono umano, ho 51 anni, mi avete rotto i coglioni, mi avete rotto. Allora, non si permette di dire una cosa del genere, capito? Mi vuole mettere dentro, mi vuole mettere dentro, mi vuole mettere dentro. Non si permette di dire una cosa del genere. No, ma mi sono scocciato. Ma che maniera è? Ma come che maniera è? Ma stia zitto, ma si vergogni. Io vado a fare zitto. Non si permette di dire una cosa del genere. Non si permette di usare ancora questo linguaggio. Da lei l'ho detto. Mettono le cose che io, non c'ho il computa. Non mi ci mettete anche voi però.